Musica Un altro equipaggio Valdostano Con noi abbiamo Manuel Dublain E Marco Bevilacqua Equipaggio della Piela Corse Anche loro su una scoda Fabia Sono davvero tante le vetture Della casa cieca al via Manuel allora l'emozione di ritornare E l'emozione di questa gara nella gara Ritornare in tutti i sensi Si parla gara spettacolare Io che ero a 5 anni che ero fermo Quindi come ripartire con calma Con una scoda Bene bene E come vi dicevo prima La cosa interessante E anche simpatica da sottolineare Di quanti equipaggi Non solo valdostani In parte valdostani ma non solo Hanno rifatto la licenza Dopo anni che non salivano su un'auto da corsa Proprio per correre il Valle d'Aosta Per non mancare a questo importante appuntamento Di questo ritorno dopo 10 anni Proprio per correre il Valle d'Aosta Proprio per correre il Valle d'Aosta Proprio per correre il Valle d'Aosta il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti.